Alla sfilata dello stilista italo-libanese Tony Ward si respira la raffinata aria Valentino, la sua donna infatti è un'icona contemporanea di straordinario fascino e deleganza, sia che arrivi fasciata da abiti che mettono in risalto la sua delicata silhouette sottolineando nei punti focali o indossi i provocanti tagliero smoking con short di paillette argento sotto preziose giacche gioiello. I tacchi assassini sono come al solito 15 cm e una manchenga caduta e scivolata per ben tre volte sulla lucida pedana sdrucciolevole molto più larga di quelle francesi ma con grande classe ha continuato a sfilare in perterreta applaudita da tutto il pubblico. I colori vanno da rosa al beige, al grigio, al bianco, al drammatico nero coniugato in lungo e in corto da splendidi rigami in perle, pietre e cristalli, leitmotif di tutta la collezione.